Buongiorno amici, è un'altra bellissima giornata qui a Beverly Hills. Che diavolo è stato? Indovino. Foley. Hai detto Foley? Foley, hai rubato un elicottero! Non avevo capito che eri imbranato a pilotare gli elicotteri, altrimenti avrei pensato a un'altra idea! L'ho detto che era una pessima idea! Ho sparato al rotore! Cazzo, cazzo, cazzo! Merda! Questo è molto imbarazzante. Una parte di me preferirebbe essere arrestata piuttosto che salire in questa macchinina Fisher-Price. Due poliziotte della Lego. Jane. Sono tuo padre. E prima che riattacchi sono in città. Mi hanno arrestato. Pronto? Sicuri che pagate le bollette? Questo telefono non va! Non è la mia prima volta a Beverly Hills. Sì, ho visto! 84, 87 e 94! Ma questo posto è un po' cambiato. Cosa ti riporta al 9210? Mi ha chiamato Billy. È nei guai ora. Che vuoi da me? Voglio che ricominci a essere un poliziotto. Dobbiamo fare qualcosa. Axe, se danneggi una proprietà della città... State su uno spazzaneve. Sì, su uno spazzaneve. Qual è il problema? Tanti punti ciechi su uno spazzaneve. Sono in missione sotto copertura con acqua e il folio. Si sono incazzate molte persone. Vuol dire che ci siamo quasi. Siete sani? Siete salvi? Non c'è la cintura in mezzo. Fa il culo la cintura! Ora si balla! Ci serviranno gli rinforzi. Che cosa fai? Ci procuro i rinforzi. Quanto mi sei mancato. Siete sani? ve PIERCZE Siete sani? Siete no. Siete sani? Siete sani? Siete sani? Siete sani? Grazie.